Parliamo di Guardiani della Galassia Holiday Special. Finalmente abbiamo visto questo film. Lo attendevo tantissimo fin dall'annuncio che, se non sbaglio, è arrivato proprio all'Investor Day del 2020, evento bellissimo che penso non si ripeterà mai più proprio in questo modo, e lo attendevo tantissimo in generale per tre motivi, che poi sono in realtà i tre motivi che formano lo speciale, quindi James Gunn in primis, i Guardiani della Galassia in secondis e in terzis il Natale. Adoro qualsiasi cosa parli di Natale, soprattutto guardarla nel periodo che concerne il Natale. Siamo ancora a novembre, però non so per quale motivo effettivamente l'abbiano voluto caricare in questo periodo, però l'ho guardato all'uscita anche per fare questa recensione. E il secondo prodotto di Natale che vedo quest'anno, il primo è stato Spirited, il film con Will Ferrell e Raya Reynolds, che vi consiglio di vedere. Comunque trovate la mia mini recensione su Instagram, su TikTok e anche qui negli shorts di YouTube. Ma spostiamo l'occhio di bue di nuovo sui Guardiani della Galassia. Anche questo, come Lycanthropus o Werewolf by Night, è un film. Non è però un lungo metraggio come quelli che vediamo in sala e non solo, ma un medio metraggio. Sono 45 minuti che volano tantissimo, sono velocissimi, quello che si vede è stupendo, ma prima di iniziare vi informo che appunto siamo a novembre, quindi in pieno Black Friday. E Pampling non è da meno, infatti sul sito ancora per qualche giorno tutte le t-shirt costano solo 9,90€, mentre tutti gli altri prodotti, quindi calze, zaini, poster e tanto altro, sono scontati del 25%. Se al momento del pagamento deciderete di supportare il mio canale, basta inserire il codice Il Pensiero 4 che vi darà la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel vostro carrello e queste calze vi costeranno 0€, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Tra l'altro, in periodo Natale, i regali fanno sempre bene. Il link di Pampling lo trovate nella descrizione, ripeto il codice Il Pensiero 4, e vi ringrazio in anticipo se deciderete di supportare il mio lavoro in questo modo. Se invece volete supportarmi gratuitamente, basta un like, una condivisione di questo video e magari qualche commento qua e là. Ma adesso parliamo di Guardiani della Galassia Holiday Special. Come ho già detto, la recensione sarà divisa in due parti, la parte senza spoiler iniziale e la parte spoiler con, appunto, un avvertimento iniziale, quindi state tranquilli, potete guardare il video fino a quando ve lo dirò, se non avete visto lo speciale. Se invece l'avete visto, continuate tranquillamente la visione. Ripeto che io attendevo tantissimo di vedere il film, non vedevo l'ora, perché al centro c'è anche il tema del Natale, che è forse la mia festività preferita. E qui il Natale si respira tantissimo fin dall'inizio. In questa parte parlerò esplicitamente solo delle cose che si vedono già nel trailer, quindi non vi dirò esattamente come inizia questo mediometraggio, ma vi dico che inizia in un modo che non mi sarei aspettato. Un'idea anche interessante, poi che ritorna anche verso la fine, che mi sono andato a informare, è anche un riferimento a un certo prodotto, o certi prodotti che si facevano al tempo. Il periodo esatto per Peter Quill e Star-Lord, che non è esattamente il protagonista di questo mediometraggio, lo sono Drax e Mantis e Kevin Bacon, possiamo anche aggiungere lui tra i protagonisti, ma il film parte proprio nei confronti di Star-Lord, di Peter. Parlando appunto di Drax e Mantis, sono la coppia perfetta per quanto mi riguarda. Mi piacerebbe tantissimo avere una serie tutta su di loro, perché hanno un'alchimia perfetta, hanno una chimica perfetta, e fanno spaccare dalle risate. Tutta la parte centrale in cui i due si trovano sulla Terra per rapire appunto Kevin Bacon in regalo a Star-Lord, è davvero divertentissima e ne vorrei vedere di più. Soprattutto nel punto in cui iniziano a entrare in contatto con le persone comuni. Sulla Walk of Fame ci sono tantissimi cosplayer, non so se si possono chiamare in questo modo, e la gente prende Drax e Mantis come persone in costume. Anche se poi effettivamente queste cose non so quanto possano essere condivisibili all'interno dell'MCU, perché comunque non so adesso la conoscenza delle persone comuni all'interno dell'universo, però in qualche modo si dovrebbe anche conoscere l'esistenza dei Guardiani della Galassia, magari riconoscere che quelli sono effettivamente dei supereroi che hanno salvato l'universo intero da Thanos assieme a tutti gli altri. Ma voglio vedere questo Holiday Special come una cosa un po' più a parte, anche se ci sono delle rivelazioni non da poco, che per lo più si fermano al contorno dei Guardiani della Galassia, ma comunque sono importanti anche per il terzo film che non vedo assolutamente l'ora di vedere. Sfortunatamente sarà l'ultimo film dei Guardiani della Galassia, almeno con alla regia James Gunn, e sfortunatamente alla seconda se non al cubo sarà molto difficile guardarlo, perché soprattutto dopo questo Holiday Special sarà tristissimo dire addio a Drax, perché sì, molto probabilmente il personaggio ci saluterà morendo in Guardiani della Galassia volume 3. Sono solo teorie in questo momento, ma visti i presupposti, quindi il fatto che nel film dovrebbe esserci la rivelazione che la figlia non è morta, e anche Dave Bautista ha detto che si è un po' stancato di fare ore, 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 ore di trucco per il personaggio per ogni film, e in più James Gunn se ne va e sappiamo il legame che Dave Bautista ha con il regista, vabbè, in poche parole, secondo me, secondo molti, Drax ci saluterà in Guardiani della Galassia volume 3. E per quanto mi riguarda non sarà neanche l'unico membro dei Guardiani a morire nel terzo film, perché anche Rocket, che qui in questo mediometraggio, in questo film, è un po' messo da parte, ma perché non serve alla narrazione così tanto, anche se ci sono dei siparietti interessanti con Cosmo, personaggio che è stato introdotto in questo mediometraggio e che vedremo anche nel terzo film, anche se è già comparso nell'MC Human, ne parliamo più tardi, ecco, anche se Rocket Raccoon in questo Holiday Special è stato messo un po' da parte, farà malissimo vederlo morire. Il villain del terzo film sarà l'alto evoluzionario che è strettamente legato a Rocket Raccoon e quindi credo che sia lui che Drax faranno la loro ultima comparsa nel terzo film, in Guardiani della Galassia volume 3. Ma parliamo di cose gioiose, perché in realtà questo Holiday Special è tutto divertente e non c'è mai un picco di tristezza o comunque qualcosa di pericoloso, perché è il primo prodotto dell'MCU a non avere un villain e soprattutto non c'è nemmeno una scena di combattimento, ok? Forse possiamo prendere una scena e affibbiargli questo termine, combattimento, ma nemmeno poi così tanto. Ma se non fosse per i personaggi non sembrerebbe nemmeno un prodotto Marvel. Nonostante questo l'ho apprezzato tantissimo, sicuramente è uno dei migliori prodotti della fase 4, se non il migliore per alcuni, è sicuramente uno dei migliori dell'intero MCU. Vediamo quindi se anche i Marvel Studios capiranno che sarebbe meglio fare, non so, uno special su Echo, anche se ormai la serie è stata girata tutta, invece che romperci le scatole con 6-9 episodi su un personaggio di cui non frega niente a nessuno. Ci sono rumor su un trasmutamento della serie di Nova in uno special, stessa cosa per Wonder Man in realtà, anche se gli ultimi rumor sono sulla presenza di 6 episodi e la ricerca del casting del villain e della coprotagonista, ma tornando indietro, guardando un po' nel passato, penso sarebbe stato meglio fare un Moon Knight special invece che un'orribile serie di 6 episodi. Torniamo però ai Guardiani della Galassia. Ho già parlato di Mantis Drax, Rocket e anche Peter Quill, in breve non c'è tantissimo da dire, ma voglio parlarvi anche di Groot, si era già visto nel trailer il suo nuovo look, è un po' strano in realtà. Non mi fa impazzire però pensiamo che quello non è effettivamente il Groot che abbiamo visto in Guardiani della Galassia volume 1, perché quello è morto, questo è suo figlio a tutti gli effetti, quindi non arriverà mai possibilmente ad essere come quel Groot fisicamente, però il fatto che qui sembri essere semplicemente Baby Groot impiantato nel corpo di, non lo so, di Verock o Vin Diesel, visto che, oddio, i due nomi messi assieme è un po' difficile vederli, però Groot è doppiato da Vin Diesel, quindi ci può stare. Però il look non mi fa esattamente impazzire, speriamo che cambi in Guardiani della Galassia volume 3, che spero sarà ambientato giusto un po' più tardi di questo special, e del resto gli altri guardiani più importanti, in realtà forse solo uno, Kraglin, perché Nebula non viene calcolata poi così tanto in questo special. Kraglin ha in realtà un ruolo importantissimo, perché il film parte per una sua idea, una sua rivelazione, diciamo così, e direi di passare a parlare di Kevin Bacon, perché qui è perfetto per quanto mi riguarda, tutte le scene in cui è protagonista, tutte le frasi, tutti i discorsi che fa con gli altri guardiani, soprattutto Drax e Mantis, il trio. Drax, Mantis e Kevin Bacon è stupendo, vorrei vedere ore e ore di queste scene, ma non sarà più possibile, penso. Che bello. Al di là di tutti gli easter egg, in realtà tutti gli easter egg, tutti i riferimenti, al di là di tutto questo, lo special, l'idea di fondo, la storia è molto semplice in realtà, quindi ci concentriamo di più sull'idea di fondo, è davvero una meraviglia, Marvel. L'ho già visto due volte prima di registrare questa recensione, ma penso che lo guarderò anche altre due volte, prima di Natale, se non proprio a Natale, perché si respira proprio l'aria natalizia, e quindi c'è da riguardarlo assolutamente. Poi le musiche che qui giocano un ruolo fondamentale, sia all'inizio che anche alla fine del film, mi sono piaciute molto, sono molto orecchiabile, e la prima soprattutto è anche divertente. Oltre al Natale, fortunatamente, si respira anche la mano di Gun, e mi dispiace davvero tantissimo pensare che dopo Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà rilegato solo ai DC Studios, di cui è diventato anche CEO assieme a Peter Safran. Speriamo quantomeno che porti un po' di freschezza in quell'universo cinematografico che è morto e risorto più di una volta in realtà. E niente, del resto direi di passare alla parte con spoiler di questa recensione, quindi se non avete visto Guardiani della Galassia Holiday Special, passate a un altro video, o comunque chiudete questo, ho direttamente andato a guardare lo speciale perché vi state perdendo qualcosa di perfetto per quanto mi riguarda, perché entrerò nei dettagli tra 3, 2, 1. Le prime cose di cui voglio parlarvi sono le due rivelazioni importanti che ci vengono fatte in questo film nei confronti dei Guardiani della Galassia, si fermano solo in quel campo in realtà. Quella che ci viene rivelata per prima è che i Guardiani hanno comprato dal collezionista Nowhere, quindi ovunque, che è il pianeta che si è andato a creare nella testa morta di un celestiale ed è anche per questo che qui vediamo per la prima volta tutti gli effetti Cosmo che è doppiata, in questa versione è una cagnolina, è doppiata da Maria Bacalova, la vediamo appunto perché era prigioniera del collezionista, era un pezzo della collezione del collezionista, quindi i Guardiani penso l'abbiano liberata e tornerà anche nel terzo film. E non vedo l'ora di vedere, scusate la ripetizione, qualche scena d'azione con Cosmo al centro perché ha un potere immenso. La seconda rivelazione è che Starlord e Mantis sono fratello e sorella da parte di Ego. È una teoria che gira da tantissimo su internet fin dal secondo Guardiani della Galassia dove c'è anche un piccolo sguardo a Ego che si approccia con una specie simile a Mantis, quindi penso la madre di Mantis, quando appunto Ego parla con Starlord di tutte le sue conquiste all'interno della galassia e qui abbiamo la conferma. In realtà la conferma è stata data sfortunatamente qualche giorno prima perché negli episodi Legends che trovate comunque su Disney+, ovvero questa serie in cui ci presentano i personaggi e spiegano i personaggi a chi non li conosce, in quello dedicato a Mantis pre-Guardiani della Galassia O'LiD Special c'è una scena eliminata da Guardiani della Galassia Vol. 2 che appunto rivela la parentela tra Mantis e Starlord. Poi gli episodi sono stati tolti da Disney+, e penso adesso siano stati rimessi in qualche modo perché appunto è stato già rivelato nello speciale. È un peccato che l'abbiano rivelato già prima con questo episodio Legends, avrei preferito scoprirlo a tutti gli effetti con l'Holiday Special, però è comunque interessante come cosa e mi è piaciuta tanto la scena di rivelazione da parte di Mantis con Starlord che scoppia in lacrime dopo aver visto appunto Mantis piangere dicendo la verità, ovvero che ha finito le sue zar gnocci. Scherzi a parte, le ultime scene di questo special sono da scaldare il cuore, davvero. Tra riferimenti o comunque proprio scene in generale tra il braccio di Bucky regalato a Rocket che fa riferimento a Infinity War, tra Rocket, tra scusate, Groot che regala dei piccoli diorama in legno appunto ai suoi compari, dei Guardiani della Galassia che fanno dare assunto a tutto quello che abbiamo visto finora, compresa la scena proprio nel presente, ovvero Kraglin che apre il pacco e si trova a sto diorama, ed è un diorama di lui che apre il diorama all'infinito, perfetto, con sotto Kevin Bacon e questa band in teoria forse anche esistente, però non di alieni naturalmente, che cantano una canzone a tema natale e tutto davvero perfetto. Il film inizia con una parte animata che ci presenta Starlord da piccolo che parla del Natale a Kraglin, Yondu arriva, distrugge tutto in puro stile Grinch, ed è appunto questo che fa partire in Mantis e Drax l'idea di portare Kevin Bacon a Starlord, perché lui ne ha parlato tantissimo negli altri film, ma anche in Infinity War se non sbaglio, e quindi questo è il regalo che i due vogliono fare al loro amico, e poi l'animazione ritorna sul finale dove Starlord, appunto, prima di avere la rivelazione di essere fratello di Mantis, spiega a quest'ultima che in realtà Yondu ha fatto poi altro dopo aver distrutto il Natale. Dopo aver visto che c'era un regalo per lui, ovvero quel piccolo mostriciattolo che si vede già negli altri guardiani che lui ha sulla navicella, quindi retcon stupenda, quello è un regalo da parte di Starlord per un Natale. Dopo questa cosa ci viene rivelato che le pistole che ha Starlord e che sono iconiche all'interno dell'MCU sono appunto il regalo di Natale di Yondu, quindi ci sono queste due retcon davvero molto molto interessanti. Tra l'altro, cosa molto divertente, ho notato che nel cestino in cui c'è l'albero di Natale e il regalo di Yondu, c'è anche un regalo indirizzato a TAZRFACE, che quindi è naturalmente TASERFACE di Guardiani della Galassia Vol. 2 che era appunto un membro dei Ravagers morto adesso appunto in Guardiani della Galassia 2 e poi parlando di anche altre cose easter egg che non vengono notate da tutti fa abbastanza sorridere il fatto che nella scena precedente a quella in cui Kevin Bacon decide di rimanere per cantare o comunque aiutare i Guardiani a riscoprire il senso del Natale, abbiamo un piccolo sguardo di nuovo sulla Terra con questo barbone che sta bevendo del liquore seduto su un marciapiede e a tutti gli effetti quello è Mark Hamill. Ragazzi, è Mark Hamill, Luke Skywalker. Dall'annuncio c'erano tantissimi rumor sulla sua presenza nello special e si pensava potesse interpretare Babbo Natale il Babbo Natale, il vero Babbo Natale perché vi ricordo che anche quello è un personaggio esistente nella Marvel, nei fumetti ed è Babbo Natale, non è un tizio vestito da Babbo Natale Mark Hamill c'era ma non era Babbo Natale tuttavia dopo aver visto il primo piano su Mark Hamill vediamo un pupazzo, un gonfiabile di Babbo Natale che si sta sgonfiando su di lui e questo l'ho trovato come una chicca da parte di James Gunn dicendo ok, ve l'abbiamo messo ma non è Babbo Natale Babbo Natale sta cadendo comunque magari sono stati problemi miei mentali ma l'ho vista in questo modo e tutto questo non mi fa che apprezzare ancora di più questo special c'è una scena post-credit non è una cosa che hanno inventato i Marvel Studios ma dopo che l'hanno fatto loro hanno iniziato praticamente tutti e sì, non è una cosa importantissima è anche divertente c'è Groot che fa da albero di Natale per Cosmo e Rocket solo che rovina tutto e Rocket rompe la quarta parete a tutti gli effetti dicendo che bisogna fare un altro special non l'ho vista nemmeno come una scena canonica all'interno dello special perché è un po' difficile che Rocket sappia dell'esistenza dei film dei guardiani anche se ormai abbiamo quella merda di Shulk che sa tutto quindi potremmo vederla in questo modo ma una cosa è Shulk una cosa è quello schifo una cosa sono i guardiani e soprattutto Rocket quindi è stata solo una chicca che hanno voluto inserire così in generale non credo che sarà un dettaglio che ritornerà in Guardiani della Galassia Vol. 3 perché vi dico appunto che secondo me Rocket ci saluta nel prossimo film assieme a Drax e voglio dirvelo anche in questa parte spoiler perché anche James Gunn su Nelle storie Instagram dove parla tranquillamente di tutto secondo appunto quello che ha per contratto ha rivelato che nel terzo film morirà qualche personaggio principale dei guardiani e visto anche dei Suicide Squad sì sicuramente non vedremo delle morte truculente come quelle nel film sulla squadra suicida penso che nel terzo film ne inserirà più di una perché ha anche detto che sarà il film più triste dei guardiani della galassia in generale quindi il terzo film deve superare la fine del secondo ovvero la morte di Yondu con tutto il funerale quindi deve esserci qualcosa di davvero triste e commovente non sono assolutamente pronto per Guardiani della Galassia Vol. 3 ma allo stesso tempo non vedo l'ora di vederlo arriverà a maggio se non sbaglio sarò nel periodo oddio in cui penserò all'esame quindi probabilmente piangerò fin dall'inizio del film ma ragazzi fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di questo holiday special mi è piaciuto tantissimo per quanto mi riguarda è uno dei prodotti migliori dell'MCU in tutto credo che prima della fine dell'anno arriverà la mia classifica della fase 4 del Marvel Cinematic Universe che ve lo dico già è la peggiore delle quattro fasi vi ricordo che in descrizione trovate i diversi link importanti tra i miei social con tutte le mini recensioni ma anche i link di Pampling codice ilpensiero4 per supportare il mio canale avere un paio di calze gratis vi ricordo che siamo nel Black Friday quindi tutte le t-shirt costano 9,90€ e tutti gli altri prodotti sono scontati del 25% e niente io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao Ciao Grazie a tutti.